L'arte per arricchirci dentro, per farci sentire bene, l'arte per combattere lo stress, l'ansia, le paure legate alla malattia, l'arte insomma come terapia. E questo appunto è il titolo Art Therapy del progetto lanciato dal Comitato di Banni di Lucca della Croce Rossa, destinatari ultimi gli anziani e le persone malate, coloro per i quali in generale un tocco di colore ma anche un contatto mano per realizzare una piccola opera d'arte, possono essere più importanti di qualsiasi medicina. Con questo obiettivo i volontari della CRI hanno incontrato gli ospiti della struttura della villa di riposo Giovanni Pascoli di Barga, pennelli e colore alla mano e come tela piccoli sassi di fiume per un pomeriggio all'insegna dell'arte e dello scambio umano. L'arte, come ha spiegato Sandra Bertolucci, la responsabile del progetto Art Therapy, può essere la ginnastica di questi anni difficili, allontana l'attenzione dai dolori e dalle ansie e in più ne possono giovare tutti. Non serve un fisico allenato ma solo un pennello, un po' di colore ed un po' di inventiva per esprimere noi stessi. La terapia alla fine ha funzionato? Senza ombra di dubbio. Al termine del pomeriggio barghigiano tante piccole e grandi opere d'arte, volti distesi di persone, volontari e ospiti riunite intorno ad un tavolo a ridere e sorridere. Tutto questo è l'obiettivo di Art Therapy. Vi sembra poco?